Due ore di discursata tra specialisti internazionali di lingua, siano linguisti o sociolinguisti e letti corsi, professori o militanti da rispondere a una umanda, che strategie per la lingua corsa. Ecco il tema di un dibattito organizzato dalla sociobradica lingua da compiazzo annata di formazione, di risposta cinese Radisigurro, bello più che una. Il primo passo è qui, per esempio, il lavoro è a prova che ne faccio in pratica lingua, ma la dì trova a dare uno spazio naturale alla lingua, travalendo di noi con la tele. Sono tutti militanti per la lingua di noi che si danno di rimeno, c'è l'azione politica sicuramente, c'è l'azione letterale, ma ci dipende di non conto l'aspetto economico. Il coraggio a gente a imparare una lingua minoritaria, tralleciando quelle che parlano di modo naturale e una politica, dove è un rinno linguistico che vuole sostegno i logodori di lingua moderna, quelle che parlano di già, e incoraggi l'altro ad imparare la lingua. Abra un centro immersivo adiante di ogni età e ogni livello di a scomessa ibratica lingua. Per la terza annata di vita, l'associazione di voi e i formatori hanno accolto 350 aderenti e proposto una drantina d'ateli restituiti in un spedago. So di noi stadi in bida di militanti. Stadi, hanno fatto nominare il professor Robo in cibo, eccetera, eccetera, e piano piano qualche progresso ci sta da subito. Ciò richiede la dinamica assujattiva, piglia assoperta in dea, la ricostruzione. La lingua insegna la società e ci dà di noi una responsabilità maggiore di anticipare e di nutrirci il stato di offizialità della lingua. Progetti, Nanno e Buzefu, saprano lui i gentrino e a rientrata in corti e moriano. Progetti, Nanno e Buzefu